non so, ma andiamo a stare, non so, va bene, c'è ancora quello lì, posso dire un'altra cosa lì? Scusami, che mi hanno un po' fatto di direzioni, ok, non so niente, ok, E... Quindi voglio vedere delle cose, scusami, posso vedere quella cosa lì? Eeeh... Ah, ecco, che sì... Ah, ecco, che sono della stima, non volevo. Un punto di vista delle montagne, i tring e i blimp di modo che mi serve con la stramonica, un modo per lasciar la mano del dolore, e sono più grandi, non mi ha detto, dello glupo, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, che è il fuori del ring al mortale, che non lo fa. Qua c'è un'attaccia, se c'è qualcosa... No? Oh, non mi ha detto... Oh... No, ma bella. Ma è un'attaccia. Oh... ok o st spettacastica e e e e e e Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.